Salvevici appassani di Football Manager, qui come sempre c'è Mike24, ovviamente Football Manager d'Italia Siamo qui con il nostro Football Manager 2020 con il nostro mitico Spezia E oggi andiamo a vedere le partite con Roma, Inter e Juventus Diciamo tre partite non proprio facilissime e tutte in un solo episodio Sarà veramente un casino, però ci proviamo almeno Giorno Ramos, Albono Stodibu, Bontero, Giampon Gomez, Petrinho, Benasser, Gil, Alvarez e Bautista Giochiamo la prima con la Roma, che sembra si schiedi con la formazione titolare Non vedo nessuna novità, se non il ritorno di Gon Alonso e Juan Jesus Insomma, Roma non proprio regina del mercato, a meno che queste non siano le riserve Potrebbe anche essere Siamo al quarantesimo e arriva un quasi azione impericolosa del nostro Spezia Andiamo subito avanti al trentesimo con lo Spezia che ha il possesso del pallone C'è Montero, Tottibu, Pedrinho, Alvarez Alvarez sulla destra, la cross al centro per l'animale Ma non riesce a trovare il tapin vincente Anche perché si è piazzato davanti un difensore della Roma Arriva il gol di Ajan Pong Ragazzi, io penso che Pedrinho abbia un telecomando per il pallone Cioè, veramente, non mi è mai capitato di fare tanti gol da calcio d'angolo Pedrinho veramente è un mostro Siamo direttamente al sessantesimo Lo Spezia in vantaggio, ripeto, dopo l'ennesimo schema vincente da calcio d'angolo E grazie di nuovo a Pedrinho che veramente è stata una fortuna trovarlo e prenderlo Visto che, insomma, non era in lista Però dopo una ricerca di vari svincolati Ho trovato lui che non potevo assolutamente non prendere Alla fine sappiamo bene che in Portogallo si fanno sempre grandi affari Perché comunque i giocatori prendono pochissimo di stipendio Quindi riesce a trovare anche elementi molto validi per due spicci Sia d'ingaggio e molto spesso anche come acquisto Intanto la Roma, penso che abbiamo iniziato a mettere i titolari E infatti arriva il gol di Shakiri al sessantesimo E finisce la partita ragazzi Non me lo aspettavo, non mi ricordavo un secondo tempo così scialbo E è arrivato in questo gol al sessantesimo di Shakiri Insomma abbiamo pareggiato Però considerando che è la Roma Direi che possiamo essere abbastanza soddisfatti di questo pareggio A parte il possesso palla Però diciamo che tiri, che ti rimporta Siamo alla pari Abbiamo giocato comunque una buona partita Ovviamente non è che le possiamo vincere tutte Quindi ci sta E non penso che c'è Pastore nel titolare Però comunque Shakiri già ci può stare Vedere appunto con Alonso titolare Non lo so La Roma sicuramente punta ai giovani Anche se non vi... Ah no eccolo qua C'è Zagnolo che di solito vendono Però in questo caso non l'hanno ancora venduto Penso che lo faranno l'anno prossimo Contro l'Inter ragazzi di nuovo la titolarissima Gioca ancora Ramos perché si è lamentato Quindi vi voglio dare un po' di spazio L'Inter invece è Andanovic, Bastoni, Skriniar, De Vrij Nuovo terzino a destro Biragi, Ericsson, Enrique, Barella, Esposito e Lukaku Esposito in teoria lo potevamo sempre prendere in prestito Già in serie B Però devo dire che mi sono rifiutato di prenderlo Ragazzi è un giocatore veramente che prendono tutti E per quanto era sicuramente un'alternativa veramente molto valida lì davanti Però insomma non aveva molto senso Poi abbiamo trovato Rui Fonte che è stato un attaccante veramente incredibile Quindi sono contento così ecco di non fare cose troppo 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 scontate E comunque niente siamo al 25esimo Con l'Inter che attacca c'è Biragi Ma praticamente Lukaku gli ha tolto il possibile gol Cioè si è pezzato lì davanti e ha buttato il pallone alle stelle Ma è assolutamente meglio per noi Siamo al 26esimo Ovviamente l'Inter fa quello che deve fare La partita, l'attacco L'Inter sicuramente è una squadra molto varia Lo sta facendo benissimo in campionato Questo va detto però sicuramente Sulla carta è di gran lunga più forte di noi C'è Pedrinho, Gomez, Benasser Di tacco penso per Alvarez C'è Ajampong, ancora Benasser Gomez, Gomez, Benasser Bello il pallone per Ajampong C'è Bautista ragazzi Che al 28esimo segna il gol dell'1-0 Siamo al 46esimo Con l'Inter che attacca c'è Lukaku sulla sinistra Biragi, Biragi Arriva il gol del nuovo terzino dell'Inter Uno pari al 46esimo Tendenzialmente abbiamo fatto la stessa partita Che abbiamo fatto con la Roma 1-0 a 1-0 primo tempo noi Pareggio quasi immediato Della squadra avversaria Ovviamente ragazzi ci sta a carità Non è che mi aspetto di vincere queste partite Così facilmente Ovviamente dispiace perché Stavamo attaccando Stavamo giocando anche un'onesta partita Però devo dire che già abbiamo regalato spettacolo nello scorso episodio Con squadre sicuramente molto più abbordabili di Inter e Roma Dopo questo ci sarà pure la Juve Quindi insomma Non è un periodo facile Però questo ci fa anche capire dove potremmo in teoria migliorare Questa squadra che comunque Già sta facendo molto ma molto di più di quello che mi aspettavo Quindi sarà anche difficile migliorarci Forse qualcosa sulle seconde linee O qualche riserva potremmo cambiarla Vediamo qualche giocatore scontento Siamo intanto all'ottantesimo Devo dire ragazzi che dopo la partita dell'Inter Solo Spezia Solo Spezia Ma nonostante ciò la partita è finita così 1-1 Devo dire che Vabbè statisticamente l'Inter ha giocato tanto Però devo dire che nel secondo tempo Le migliori azioni le abbiamo avute noi Comunque altro pareggio buonissimo Considerando la caratura della squadra avversaria Contro la Juve confermiamo la formazione titolare Lo stesso possiamo dire per Ramos Mentre nella Juve vediamo un 4-3-1-2 di scuola Lecce Se ben vi ricordate Ma notiamo subito diverse cose De Miral sulla destra Bernardeschi a centro campo David Silva A parametro 0 David Silva Insieme a James Rodriguez Erano due giocatori che volevo prendere Perché fino a metà luglio erano ancora svincolati Solo che Silva Era fra Juve e Valencia Mentre poi James Rodriguez Diciamo che nessuno se l'è filato O meglio nessuno gli ha fatto un'offerta comunque importante C'era la locomota in Mosca Di due Barcellona che Penso gli abbia offerto due lire E quindi poi alla fine ha preferito la Fiorentina Insomma Però sarebbe stata veramente tanta roba avere James lì davanti Probabilmente avremmo dovuto cambiare schema A giocare col 4-2-3-1 Però sinceramente l'avrei fatto volentieri Per James Rodriguez Però purtroppo Non ci siamo riusciti Comunque la Juve subito attacca Fa quello che deve fare Siamo al terzo minuto E noi già siamo in difficoltà Juve neanche sto a dirvelo Sta facendo un campionato non buono Perché alla fine Roma, Inter e Juve Sono tre squadre molto forti Ma tre squadre che stanno rendendo molto meno Di quello che possono dare Le squadre che stanno facendo meglio Sono il Napoli e il Milan Stranamente il Milan ragazzi Purtroppo Intanto c'è il Ronaldo E... Però insomma Strano, strano Alla fine se ben vi ricordate Anche nella carriera con Grava La Juve andò in grossissima difficoltà Sarri andò addirittura all'allenare nazionale E appunto la Juve in grandissima difficoltà Addirittura decise di prendere Grava Come allenatore Diciamo un po' sminchiando la carriera Visto che poi appunto Fummo quasi obbligati a concluderla subito Visto che siamo stati poi Presi da una grande squadra Però insomma Non fa nulla Ecco comunque È stata una bella carriera Che ci ha fatto vedere anche Un nuovo campionato Cioè quello Quello russo Quindi assolutamente Sono Sono contento così E intanto la Juve Mantiene il possesso palla C'è Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Che sbaglia di nuovo Tapin Buon per noi Assolutamente Siamo al ventiduesimo Attacca lo Spezia Arriva il gol di Gomez Ragazzi io ripeto La mia teoria Che Pedrinho Ha un telecomando Al posto dei piedi Non lo so Cioè O meglio Calcia Poi si mette con un telecomandino E guida il pallone Perché veramente Non ho mai fatto tanti gol Da calcio d'angolo Ho anche un po' cambiato Gli schemi ovviamente Cioè ho fatto un nuovo schema Da calcio d'angolo Insomma O sono un bravo io Non credo O è bravo Pedrinho Lo credo molto di più Quindi Quindi sono contento così E siamo passati in vantaggio Anche con la Juve Siamo in casa Sono ovviamente contento di ciò Ma la partita lunga Siamo solamente al trentatresimo Quindi Dobbiamo stare sicuramente attenti A questa squadra Siamo al trentaseiesimo C'è Pjanic Silva Silva che passa il pallone A Demirale Indietro per Bernardeschi Pjanic Indietro per Alexandro Sulla sinistra Cerca il cross al centro E arriva il gol di Aubameyang Uno pari al trentaseiesimo Gomez Fermo Non poteva fare effettivamente nulla Siamo al secondo tempo Al quarantaseiesimo Cioè la Juve Che tiene il possesso Che novità Pjanic Dall'altra parte per Demirale C'è Bernardeschi Sulla destra Ottimo L'intervento di Albornoz Ma Rimpallo Favorisce Demirale Che la cross al centro E c'è Cristiano Ronaldo Che al quarantasettesimo Segna il gol Del 2 a 1 Siamo al sessantesimo C'è Silva Che non riesce Insomma Non riesce a sostituire Pedrinho E c'è anche Ronaldo Che segna il gol Del 3 a 1 Potrebbe essere Un fuorigioco Vediamo l'arbitro che dice Fuorigioco Fuorigioco Siamo quindi sul 2 a 1 C'è Pedrinho Che fa un altro assist Incredibile Ma qui a Giampong Non riesce a trovare Il tap in Vincette 64esimo C'è Bautista L'animale Da Animal Che vuole sfondare la porta Però si fa un po' troppo avanti C'è A Giampong Che pure voi ragazzi A Giampong lo tiene Sto vizio del gol Zitto zitto Ne fa una caterva 2 pari Siamo adesso 2 pari Stato al 65esimo Quest'azione è al 79esimo C'è Alexandro Che la spara in avanti Dove c'è Cristiano Ronaldo Che viene fermato Dal Buon Gomez C'è anche Capradossi Che lo ferma Di esperienza E Siamo al 96esimo Ragazzi E Il nostro giocatore Regala il calcio di rigore Alla Juve Vignali Il capitano Ci tradisce così Al 96esimo Arriva Non so chi Non me lo ricordo Chissà Ronaldo E Nulla Ragazzi Fa quello che ovviamente Deve fare 3 a 2 Per la Juve Al 96esimo E Vabbè Andata così ragazzi Ovviamente Non ne possiamo vincere E pareggiare tutte Arriva la sconfitta Che fa male Al 97esimo Fa veramente male Questa sconfitta Però Ci ammasta E ci ammasta E pure zitti Finisce così Il mese di dicembre Con Due pareggi E una sconfitta Ci stanno ragazzi Ovviamente ripeto Non siamo imbattibili Il mese di gennaio Ci regalerà 3 partite ostiche Atalanta Napoli E Fiorentina Poi però Per fortuna Un po' di respiro Con Bologna Brescia Lecce Juve Stabia Castellammare di Stabia La squadra E Parma Che comunque sta facendo Un campionato Veramente valido Quindi direi che Avremo 4 partite Per Rifiatare Praticamente Abbiamo Avremo E abbiamo avuto Un mese incredibile Di fuoco Roma Inter Juve Atalanta Napoli Fiorentina E poi Quattro partite Per respirare E poi di nuovo Parma Lazio Milan Torino E Napoli E ovviamente Non sarà facile Ovviamente Faremo il possibile Siamo quarti In classifica E già Posizione Che sarebbe Ottima Però Ripeto Ovviamente Le partite Non saranno Facili E Ancora di più Dobbiamo considerare Che questo Che abbiamo vissuto Oggi Sarà il nostro Finale di Campionato Quindi con Roma Inter E Juve Quindi se Con la partita Del trapini Non avremo Una posizione Certa Ecco Concludere Il campionato Così Non sarà Proprio Facile E Siamo ripeto Quarti A più 2 Dal Parma A più 2 Dalla Juve A più 2 Dalla Roma A più 2 Dalla Fiorentina A più 6 Dall'Inter Quindi Che voglio farvi Capire con ciò Che siamo Tutti In un fazzoletto Di punto Cioè Tutti Vicinissimi In teoria Noi siamo a un punto Dalla Lazio A meno 4 Dal Milan Quindi Tanto potremmo Dico una follia Vincere il campionato Tanto potremmo Uscire addirittura Dall'Europa League Alla fine Ci possono superare Perdendone una E vincendone un'altra Loro Fiorentina Roma Juve E Parma Quindi Dobbiamo stare attenti L'obiettivo Lo ripeto E quello Dell'Europa League Quindi Quinto Sesto posto Anche settimo Anche settimo Non fa niente Ci andiamo a fare I preliminari Quindi Se riusciamo ad arrivare In Europa League Bene Tutto quello che viene Dopo In più È ancora meglio Però insomma L'obiettivo è quello Quindi Penso che la salvezza L'abbiamo già conquistata Abbondantemente Quindi dobbiamo Solo sperare In questo Insomma Nell'Europa League Potremmo farcela Però insomma Considerando che ci manca Ancora metà Il campionato Non Non è così semplice Nonostante Comunque Un girone Di andata Parecchio positivo Insomma Abbiamo Vinto Undici partite Pareggiate cinque E Perse Tre Quindi direi Un buon tabellino Di marcia Detto questo Direi che ci possiamo Salutare qui Ovviamente nel prossimo episodio Andremo un po' Ad analizzare questa squadra Che può essere Sicuramente migliorata Ma non sarà facile Diciamo che il mercato Di gennaio Ti offre Buone occasioni Di prestito Per gli acquisti Un po' Difficile E quindi niente Come sempre ragazzi Un saluto A Mike94 Fai tutto ciò che vi pare Grazie per la visione E un saluto A Mike94 Sempre Da Football Manager Ciao ragazzi